Ciao a tutti, oggi è il 20 e rotti di aprile, questa è una giornata un po' particolare, esatto, il fittone sta organizzando una giornata super segreta, non vi diciamo a fare che cosa, non ve lo diciamo, stiamo facendo uno studio di fattibilità per le matricolari, ci piace, ci piace, ci piace, ci piace, ci piace,